è successo è successo è successo è successo una sola volta nella mia vita è capitato una sola volta tanto 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 parecchio tempo fa è successo è successo però me ne sono uscito pulito me ne sono uscito pulito ma lo ricordo benissimo quel giorno mi feci pure una doccia era un martedì ed è più un rapporto lavorativo lavorativo da questa esperienza ho capito che qualsiasi lavoro fai subito te lo mettono nel cu curriculum però io non lavoro più che esperienza traumatizzante che ha avuto soffro di ergofobia ergofobia è vero non sapete cos'è l'ergofobia e fate una ricerca su internet invece di star sempre su facebook tiktok youporn l'ergofobia l'ergofobia è la paura di lavorare è vero esiste davvero ergofobia purtroppo io ne sono affetto e non lavoro non posso lavorare eppure ciò nonostante l'altra mattina ho ricevuto una telefonata la mattina presto e potevano essere le 11 11 e mezza su quello il telefono e io educatamente rispondo ma chi cazzo è a quest'ora era una voce di una signorina di una tizia che fa salve signor abbinante la contatto per fare una proposta io lì per lì che stavo ancora stonato di sonno pensavo che fosse un call center e faccio no senti non sono interessato sto bene così la ringrazio buongiorno fa no 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 non siamo un call center che ha capito siamo siamo un'agenzia interinale faccio io ho capito mi scusi e non non avevo capito chi chi fosse comunque la ringrazio mi dica mi dica fa no abbiamo guardato il suo profilo quel sicuramente avranno guardato qualche foto mia di lato su facebook sicuramente il profilo destro questo qua che è il migliore e mi hanno contattato per questo ma no le vogliamo fare in realtà una proposta lavorativa ho detto guardi io la ringrazio però no non mi interessa minimamente lavorare soffro di ergofobia e quindi i miei problemi ma perché fa così ma perché dice così ma aspetti un attimo è una proposta lavorativa molto interessante ci sono delle buone prospettive per il futuro ma attendo un attimo lo valuti attentamente e lì per lì ho detto senta guardi ma non è che noi dobbiamo fare istigazione al suicidio non capito se non mi interessa non mi interessa e reschi chi l'ha chiesto niente poi non è che ho chiamato io per chiedergli qualcosa tu mi interrotto il sonno alle 11 del mattino mi chiami per dare fastidio mi fai questa proposta è quella scema continuava ma perché fa così ma venga qui in ufficio ne parliamo di persona e lì siccome io gli affronti proprio non me li tengo ho detto vabbè senti bella prendiamo un appuntamento domani mattina vengo all'ufficio in questa agenzia intestinale così la risolviamo sotto sotto la situazione che io non è che posso stare a perdere tempo dietro a te lavoro fa va bene ovviamente prendiamo l'appuntamento mezzogiorno perché io prima ho le mie necessità fa no non è possibile a mezzogiorno perché a mezzogiorno noi andiamo in pausa ma è di schiavo lit fatgano né quella che che pausa fai a fare pausa mangio quando torni a casa mangio una mela lì fai colazione abbondante la mattina vai a lavorare comunque la mattina dopo non vi dico non vi dico a che ora mi ha fissato l'appuntamento quell'altra giocata la alle nove e mezza la mattina praticamente mi sono svegliato all'alba quasi alle otto e mezza un stricca alle nove un caldo c'era il sole grande così nel cielo un calore che non vi dico ho iniziato a imprecare in lingue sconosciute in aramaico antico e sono andato dritto dritto all'agenzia interrettale sono entrato dentro senza dire né buongiorno né buonasera che mica era andato là per l'educazione è incazzato come una pezza è andato vicino alla tipa fa tu come ti chiami serena fa sì io sono serena perché il giorno prima ha detto io sono serena e poi sto tranquillo io sono abbinante ieri mi ha chiamato ma perché mi volevate prendere per il cu curriculum a me non interessa è quella mi fa ma stia calmo si accomodi innanzitutto buongiorno le posso offrire un caffè un caffè sto già tutto nervoso il caffè ma perché questo è scema veramente ha incominciato a fare questione con questo ma lei non mi deve chiamare più chi le ha dato il mio numero come mai mi avete chiamato da qui da qua e lei mi fa no guarda abbiamo visto negli archivi e lei ci risulta disoccupato beh e là mi ha fatto girare le bobine proprio mi ha fatto girare che come fai tu ad andare a vedere negli archivi i fatti miei questa è violazione della privaci questa è violazione della privaci voi non lo potete fare ma perché fa così ma perché fa colà ma mi stai ad ascoltare le voglio fare una proposta lavorativa molto interessante ci sono delle prospettive future molto interessanti c'è una buona retribuzione all'ordo però all'ordo me l'ha detto con quella faccia di quelli che dice l'ordo e la mi ha fatto incazzare ancora di più io senti bella l'ordo l'ordo io lo vai a dire a qualcun altro non a me l'ordo io lo vai a dire a qualcun altro non a me io mi lavo io mi lavo ogni martedì mi lavo ma vedi a questo e mentre la situazione si stava riscaldando in maniera pesante perché comunque la giugno poi faceva un caldo ad un certo punto mentre la questione era proprio animata che stavo lì per ricca quella chissà che così dovevo castemare arriva un tipo da dietro e incomincia a fare ma che succede qui ma come mai urla ma lei è il signor abbonamento abbinamenti abbanante è quel che voleva fare i giochi di parole sul mio cognome ma vedi a quest'altro creativo vedi e lì mi sono incazzato ancora di più e ho detto senti bello io non sono venuto io qui perché voglio far litigare non voglio far questione con nessuno e voi che mi volete male che mi volete mandare a lavorare che mi volevate prendere per il curriculum io c'ho un certo cu ho sempre intellettivo e c'ho anche un cuore grande così e il mo ve lo dico io non vado a lavorare ma voi siete scemi se non le sentite le notizie i telegiornali le notizie non le sentite 365 morti nel 2024 365 morti sul lavoro nel 2024 uno al giorno praticamente 365 uno al giorno in un anno o bel che stiamo ancora a giugno siamo ancora a giugno è quel che mi guardavo ancora a faccia come per dire fannullone sfaticato parassita depravato e la che cosa dovevo fare più che cosa potevo fare niente li ho mandati a fare in culo e me ne sono andato